Strumentazione Industriale è un'azienda leader nella fornitura di strumenti per la misurazione e la regolazione di pressione, temperatura, flusso, livello e di accessori per impianti industriali con sede ad Invorio, in provincia di Novara. Strumentazione Industriale nasce nel 1987, il fondatore Dario Niemmi ha lavorato per molti anni come responsabile commerciale di una importante azienda produttrice di strumenti. Lì si è reso conto che esisteva un divario tra le necessità del produttore e quelle dei clienti, che non sempre hanno bisogno di grosse quantità, ma spesso necessitano di piccole quantità in tempi molto rapidi e hanno bisogno di un servizio personalizzato. Lo stock si compone di vari articoli, noi trattiamo strumenti quali manometri, termometri, trasmettitori di pressione, riduttori in acciaio inox e moltissimi altri prodotti. Cerchiamo di dare una gamma completa. I nostri clienti ci apprezzano soprattutto per la nostra capacità tecnica e per il nostro servizio, quindi abbiamo da sempre puntato molto sul magazzino e sulla rapidità di consegno. Negli anni il costante aumento del numero di referenze da gestire, l'ampliamento dei territori da servire e la necessità di consegnare moltissimi prodotti in 48 ore o addirittura il giorno stesso ha reso sempre più complessa la gestione dei processi intralogistici. I nostri magazzini erano dei magazzini statici composti da una scaffalatura divisa in corridoi e in colonne. Inoltre c'era un secondo livello, quindi c'erano anche delle scale. Gli operatori per prelevare gli ordini dovevano quindi percorrere questi corridoi e anche le scale più volte in un giorno e ci mettevano quindi un tempo notevole solo per percorrere questi questi percorsi. Per questo abbiamo deciso di installare dei magazzini verticali silo quadro di ICAM che abbiamo ritenuto la soluzione ottimale per i nostri bisogni. Strategicamente installati uno di fianco l'altro, i due magazzini silo quadro garantiscono lo stoccaggio accurato, veloce e sicuro di oltre 800 referenze di medie e piccole dimensioni in meno di 70 metri quadri. Gli operatori visualizzano le liste degli ordini da evadere sul pc a bordo macchina e con un semplice clic avviano la movimentazione dei magazzini silo quadro che consegnano in baia i vassoi con gli articoli da prelevare organizzati in scatole e contenitori. Sono due gli addetti ai magazzini silo quadro, uno per l'allestimento degli ordini completi, composti da articoli disponibili a stock e l'altro per gli ordini da completare, composti da articoli non disponibili o che devono subire lavorazioni nel laboratorio interno. La preparazione degli ordini avviene una volta al giorno, nel primo pomeriggio, secondo la logica dell'order picking. I vassoi arrivano in baia uno dopo l'altro a seconda degli articoli necessari per evadere un ordine alla volta o una frazione di esso. In media un ordine è composto da cinque articoli ma la sua composizione può variare, da una sola riga fino ad un massimo di 25-30. Entrambe le baie di lavoro sono dotate di iride, il sistema multimediale che guida l'operatore passo dopo passo riducendo errori e tempi di prelievo. Le scatole contenenti gli ordini completi vengono riposte nell'area allestimento ordini dove una macchina provvede al loro imballaggio. Al termine vengono riposte in aree già suddivise per corriere pronte per la spedizione. In passato la gestione degli ordini era molto più complicata perché l'operatore doveva spostarsi tra le varie scaffalature alla ricerca degli articoli. Ora l'operatore è fermo davanti alla macchina e la macchina lavora per lui. Gli ordini vengono gestiti dai colleghi del nostro reparto commerciale che inviano un file al nostro sistema ERP della macchina. I vassoi arrivano all'altezza uomo quindi non c'è più bisogno di abbassarsi o alzarsi e si fa molta meno fatica nel preparare ogni ordine. L'interfacciamento di Icon, il software dei magazzini silo quadro con l'ERP aziendale, consente di avere sempre sotto controllo la disponibilità dei prodotti ed eseguire il ripristino in pochissimo tempo. Gli ordini di acquisto vengono effettuati una volta alla settimana. Arrivata la merce, vengono create le liste di carico tramite il software gestionale interfacciato con Icon ed inviate al magazzino. Una volta ricevute le liste di carico, il magazzino provvede a consegnare in Baia i vassoi con le locazioni disponibili ad ospitare la merce. Dopo l'installazione dei magazzini, il lavoro degli operatori è notevolmente migliorato. C'è stato un notevole risparmio di spazio, abbiamo smantellato circa due terzi della scaffalatura, abbiamo mantenuto una piccola parte per alcune tipologie particolari di stock, come stock a bassa rotazione o di grossissime quantità, però lo spazio a disposizione è cresciuto molto e questo in prospettiva futura per noi era molto importante. Grazie a tutti.